Tanti auguri a te Siamo aperta la batteria, resta prima la festeggiatta insieme a festeggiatta Quanti invitati? Ho tutta la famiglia 100 persone 40-50 persone Tutti in casa nel video Ha fatto il suo nome Il video è venuto dalla guerra 30 giorni di licenza per fuori Sì, sì Anche l'assaggio non c'è Anche a mio po' per assaggiarlo per assaggio Tutti vogliono assaggiare il vino di Sofia E dopo quando te l'hai bevuto te soffi Tanti auguri alla rosa 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 di quei paesi, mi ha sempre l'occasione di fare qualche sagrada e qualche bocconi. A casa della Bianca io ho fatto il bocconi, con cioccolato al latte, pasticci alcuni freschi. Qui, a tre, il latte lo misura come l'olio del zì, sono i vecchi e i gemenini che li ha calcutati. Perchè era la tercera monaria, i temi l'impatire del latte della cittadina. Grazie. 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 Grazie.